Dopo i 40 anni l'addome ed il giro vita sono senza ombra di dubbio i punti più critici dell'essere umano e non mi riferisco solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista funzionale. La verità è che non è difficile avere un addome scolpito, efficace, bello quando si hanno 25-30 anni. La vera sfida inizia dopo i 40. Sono Fabio Zubani e da oltre 14 anni mi occupo di benessere. Il mio lavoro è quello di curare la salute e la longevità dei miei clienti. Ed in questo programma di allenamento specifico per gli addominali ho inserito la sintesi di tutta l'esperienza e la formazione accumulata. Quello che spesso si vede fare per i muscoli addominali non soddisfa pieno le loro reali esigenze perché la loro funzione è prevalentemente posturale e stabilizzatrice. Quindi è fondamentale approcciare in modo corretto con esercizi perfettamente in linea con la funzione richiesta. Il programma si compone di 6 allenamenti settimanali, uno al giorno, e di 8 settimane di lavoro progressivo. Potrai tenere tracce dei tuoi progressi con le schede presenti così da misurare il tuo progresso in modo inequivocabile. Si tratta prevalentemente di lavori a corpo libero e gli unici due attrezzi che sono richiesti sono una fitball e un elastico. Ma per quanto riguarda la fitball, nella sessione specifica dell'allenamento proporrò una facile variante. Ti basteranno pochi minuti al giorno, se possibile al mattino, per costruire la tua routine di successo. Perché 6 giorni su 7? Beh, gli studi e la mia esperienza insegnano che la costanza premia più di qualsiasi grande sforzo saltuario. Ecco perché ti sprono ad allenarti 6 giorni su 7 con una precisione chirurgica, consentendo di così di forgiare la tua disciplina e di aggiungere qualità al tuo mindset. Il modo migliore di prevedere il futuro è crearlo e noi oggi iniziamo uno splendido capitolo dedicato a noi stessi e al nostro benessere.